Risultato a sorpresa nel match del massimo campionato di futsal tra Aque e Sapone, Città Sant'Angelo e Venezia. Malgrado la differenza in graduatoria, prevalgono gli ospiti. Prima occasione di giornata per la troupe di Max Bellarte, Hector serve di tacco del pizzo, fa buona guardia dal CIN. Al minuto 4 il giovane Cianguigna fa ben sperare peccato per un pizzico di mala sorte prima la respinta. Dell'estremo Veneto poi il palo si resta sullo 0-0. Un primo più tardi il talentuoso Monte Falcone salta i propri riflessi respingendo la conclusione di Rossabruno. Al sedicesimo Caetano, su azione conseguente a rimesta laterale, sciupa clamorosamente a tu per tu con dal CIN. Incredibile. In chiustura di frazione Silveira fallisce un tiro libero destro prevedibile dal CIN ringrazia al quarto. Ciaguigna tenta la conclusione da buona posizione sfera che rasenta il palo. Aque e Sapone ancora vicino al gol con Zanchetta insuperabile dal CIN con i piedi dice di no. Decisamente il migliore dei suoi. Poco dopo si rinnova il duello ancora Ciaguigna che trova il solito muro esaltatissimo l'estremo Veneto. La beffa sul finale. Belsito approfitta del portiere di movimento locale per siglare dalla lunghissima distanza la marcatura del vantaggio. Clamoroso 0-1 e palla al centro. Solo il tempo di rimettere la sfera in gioco è triplice fischio. Il Città Sant'Angelo può solo mangiarsi i gomiti. I Veneti conquistano un successo di importanza capitale in ottica salvezza per gli angolani. Nel prossimo turno ci sarà il derby con Pescara.